Ciao, allora per questo trucco sugli occhi ho usato una palestina che mi è stata portata la mia cugina Lara che saluto, che è venuta a trovarmi, questa palettina della Kiko, questi sono i colori, i colori di questa palettina sono molto carini devo dire, però non li trovo estremamente pigmentati, devi sicuramente lavorarci un bel po' e devi applicare diversi strati, il nero me lo sarei aspettato un po' più pigmentato quindi questo è il trucco, spero che vi piaccia e vediamo cosa ho combinato fatemi dire subito che utilizzerò tutti e tre i colori bagnati, quindi ho spruzzato un po' di fix plus sul pennellino e comincio utilizzando il colore più chiaro che vado ad applicare all'angolo interno adesso passo al verde che vado ad applicare con questo pennellino da sfumatura punta, ovviamente sempre bagnato vado ad applicare il nero su tutta la palpebra mobile superiore e inferiore, per la palpebra mobile superiore uso questo pennellino da ombretto, classico chiamiamolo, invece per la palpebra inferiore, mobile inferiore, dopo aver applicato la matita nera, sopra la matita nera vado a stendere l'ombretto nero con questo pennellino angolato che sicuramente facilita l'applicazione e mi dà anche la possibilità di creare questa sfumatura che ho già fatto sull'occhio destro, mi sono dimenticata di abbassare il volume della televisione, se ve lo state chiedendo su Rai International stanno trasmettendo la vita in diretta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti uso lo stesso pennellino angolato per prendere un po' di verde e andarlo a applicare vicino l'angolo interno dell'occhio sulla palpebra mobile inferiore sull'arcatato parciliare vado a stendere l'highlighter, vado ad applicare l'highlighter, il colore più chiaro grazie a tutti 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 e questo è il look finale come al solito spero che vi sia piaciuto e un bacio ciao